Il genio di Michelangelo Pistoletto Il genio di arte alla società Noi abbiamo bisogno di essere passivi Abbiamo bisogno di essere attivi Abbiamo bisogno di essere attivi E Michelangelo con il concepto di demoprazione Lo explica Prima di aprire la obra È fare una aczione sociale Di inclusione Di traere le persone Di traere le ansiedi Qui si è iniziato una discussione Un punto di contatto Con le persone con capacità Di fare cambiamenti reali In la società È un evento di grande importanza Per due ragioni Per la personalità di Pistoletto Per lo che significa Per avere uno dei più grandi artisti Del arte pobra in Chile E per questa grande Iniciativa vinculante Per l'interno Iniziamo in un momento Iniziamo in un momento Perché la necessità è clara Tutti sentono la necessità Ma non hanno il sistema Per organizzare le soluzioni E stiamo proponendo le soluzioni Trudemoprazione Trudemoprazione Per la personalità di Pistoletto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.